la politica sia una cosa importante, sia una cosa molto importante e questa gente si deve vergognare perché ha fatto diventare la politica di gente come Berlinguer, quella gente lì che hanno dato il culo per la politica e per la gente, hanno distrutto la dignità di questo nome, hanno distrutto la dignità della politica e vi dovete vergognare, siete tutti d'accordo, ha ragione Beppe, tutti a casa, non ne deve rimanere uno perché siete tutti concursi, tutti d'accordo siete, tutti d'accordo, sapete tutto di tutti e siete lì con quel loro culo flaccido di merda su quella poltrona che non mollano e non rinunciano a un euro di stipendio quando c'è gente che si sta suicidando, quelle morte urlano vendette, pagherete, pezzi di merda pagherete.